bene buona serata siamo tornati su questo gioco è quasi peggio che streamare lol non ne sono granché sicuro livelliamo almeno io sono un attaccavolo è partito l'audio qua no stai calmo devo fare un attimo di roba col telefono ma l'hai fermato ha chiuso lo streaming semplicemente perché mi stavo sentendo triplo capisco perché cerca mi sta prendo per il culo vedremo anche come si expa da plebs io sono plebs forte ok possiamo partire che dobbiamo fare boh acquittiamo dai facciamo solo le campagne però dai almeno le queste blu fammele prendere siamo possiamo fare la roba luna luna cosa quella strana ah tu so dai c'è una luna cosa prima c'è la giornaliera arde il group arrivo anche io allora la luna era adventure i era questa madru ok si quella di destra l'unica quella dove puoi entrare con zero cose si si ok qua si prendeva questo e quella bruttissima dove muori a caso si perché è così perché è bello poi che cazzo apro la porta e niente eeeh boh quasi quasi facciamo un ethercanon error channel moved user was moved to your channel ho spostato un canale anziché spostare per salati al canale ciao ciao un canale votendo una cosa solo di tanse dei mi vuole una cosa non lo so è tipo un asciuto strano diciamo eeeh questo è un santino ma diciamo un'epoca 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 ah ok si Ci sono riuscito a far andare il pacco C'è anch'io Ci tengo Il pacco Basta sti cazzo Fonte io ho messo solo il crit Poi penso di che Non lo so anch'io posso fare il crit Sì è stato crit quel pacchile Io sto muorendo La curata C'è il mio cleric Che clerica? Un cleric al 34 Non mi sembra Non mi sembra ancora Io ho un cleric al 65 Fino E' vero hai fin Hai anche l'account x3 Sì avrei anche l'account x3 Sì Che è quello direttamente gold pack Morire così perchè Non capisci realmente perchè Beh ma io ho capito come fare Quando arriva ti metti dietro alle spalle E ti tiri quella che è sciolta Ti droppano le cose per mettere i cannoncini Ma come te la fai in solo sta roba? Sì Posso mettere un cannoncino in realtà? Solo uno Io l'ho messo tutto Ah no Cosa l'ho Dopo il clad Comunque mi hanno detto che Eeeh 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 Non lo so Pensavo che mi riconoscesse OPS Eeeh 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 Vado Eeeh Don't Vado Eeeh N An J Questo rumore è il crawl quindi voi stare dietro hai detto gli attiri l'ultima e ti droppa gli item così per mettere quando arriva tanto non ti aggra ti metti dietro di lui e gli attiri metti sponato e si dovresti tiragliano prima che le spona proprio appena arriva tanto non ti caga facciamoci la barra la barra da solo ma no ci mettono direttamente in sovraimpressione con i fin giusti cambiato per anche ora la wiki è occhio perché eeeeh che sa che c'è di tutto scopo ed ecco le piazze 2.000 singolo 10.000 singolo 20.000 e si probabilmente ste robe sono molto più semplici una volta che hai gear perché puoi frittare come si fa a passare oltre da bar non 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 ma ormai quello è l'ultimo hai due sono tre questo è wave ormai quello non gli fai niente è questo è il marco è questo è il marco quanto qu'è il marco non è un marco è fino che Che cazzo la voglia? Il trucco secondo me non è un problema E' un pazzo con le sue belle faccine Brutta roba, mica che Due verni Una quantità di verni Sì Questa sono zombie Sì Sai veramente Non merda il male Ho preso aggro io Io muoio Chris Comunque gran bel texter che ci ha messo Sì Veramente bello Qualcuno mi... vabbè io l'ho caito in giro sti cazzi Beh, un po' c'è la cura che ho perso armi Sì Mi sembra di uno strano Un po' E' un altro gioco E' molto strano Uno ritornare a giocare Sì Quello è... Un momento strano Ah sì Ah sì Ah sì Ti trovo più a casa su Blade and Soul in realtà Molto Solo perché... Solo perché abbiamo passato cinque anni Quelle scelte no 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 mi sentivo io più a casa su play d'n'soul non so perché però se non che non mi sento a casa anche qui fatto S sono morto ho fatto rank S hai fatto velocissimo perché non l'ho fatto di molto e cosa c'è qua dentro un cazzo sono roba da craft si ma tanto quelle robe da craft ti servono e servono nel senso ci fai cose carine Hanno cambiato il nome bello eh Deadly Abandon sul Gladiator cosa? Deadly Abandon sul Gladiator si è semplicemente la passiva che stunna quando è meno del 10% di vita ah l'aggravation no l'aggravation è quella che ti dà aggro cazzo si chiamava l'aggravation non era la passiva che ti stunnava quando avevi poca vita determination l'aggravation è quella che ti dà aggro quella che anche è il Templar la quella del Templar? si ce l'ha anche il Gladiator l'aggravation ma ti dà semplicemente aggro per ogni attacco che fai e hai aggro bonus ma non me lo ricordo il nome sinceramente è determination quella che stunnava adesso si chiama Deadly Abandon è così perché è bello quanti vermi? che bello ho già finito anche tu non ho più force io non si può una niente aspetta che ti aggiungo gli amici perchè non c'è neanche negli amici ahn, esce, x cosa triste beh? una vera tra gli amici ma vai ho due skill nuove uuuuh il charge ho il fottuto charge era verso qua una volta guardi ogni tanto scriverò ma questa non si prende questo ciccione enorme ma io devo andare un attimo a pandemonium ancora quattro minuti di charge però dura di più tredici secondi prima non era tredici secondi sono sicuro ma questa roba qui torniamo al stone of refuge coso? mh? niente è stato un'ottima pandemonium a prendere se ho roba daily per il ritorno ah giusto se ho roba daily forse si una ho una quest che mi dice di fare aramel vabbè tanto adesso dovevi fare pochini mi dai roba extra si hero coin wow tanto adesso lo dobbiamo fare tipo direttore allora se io vado poi da luna e torno indietro è troppo bordello l'audio si infatti ci tiene tipo a 3% come al solito to raise the sign io devo alzare il 20s ma questi cosi vanno per forza pagati scusa di luna slight perchè per qualunque design serve almeno un luna slight non ne ho idea io potrei fare tipo tutto ma mi mancano quelli così si linka non si può vedere il preview non mi ricordo neanche come si vede il preview in realtà ok se papà la fa we lost manager depositiamo tutta la roba ta 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 ok c'è un genero di ghost emergency ci prendiamo questo e questo metto lo spazio 300 kg mi salveranno al culo scherzi magari ti diamo anche slaughter perchè serve cazzo ma puoi critare addirittura infatti ti ho detto secondo me max gear cambia max gear comunque con una quantità umana di crit non ti da nulla non ti da nulla permette sono ulti pro essere pro essere e quale che ti da sono ulti beh tu sei quasi al 16 possiamo passiamo altra parte qua ma si ma ti ho detto facciamo solo le campagne e poi ne farei aramello da perdere tempo con dei quest blu ma stiamo fanno qua dei blu blu fatto quelle blu blu sono vecchie campagne esatto blu blu si fanno blu blu e quelle azzurine no esatto quella azzurina è skip di rossi di rossi io cosa diva io le levelling ti danno anche una scropperata ma come sempre e si sa che stessi abbiamo dei siti in plate magari hai visto che adesso le scroll sono di un solo tipo non ci sono le lesser e le greater sono tutte fisse e master io ci sono solo running da 30 è bellissimo è bellissimo all'awakening scroll le posso buttare io già quando le ho viste la prima volta ho detto ma che cazzo mi danno di nuovo quelle 20% eh bello ma il solito possa non ho niente giusto devo andare a fare anche io quella roba lì devo bere la roba mau non gliel'ho appena fatta perchè mi da un titolo e voglio un titolo al momento il mio titolo è stronzo fatto A anch'io ieri ho fatto A non so perchè ho fatto S oggi cos'è Mudlamps of Flash? non lo so non chiederti niente penso che ne so meno di te ah ho fatto un livello penso sia impossibile comunque livellare dopo il 70 perchè ho visto gente quindi a 500k di expo ti fanno sti cosi what? c'è gente epica comunque che ancora a livello merda e vedi lightning è 72 e poi c'è Mitriella a 75 e gli arabi a 75 no no neanche si si lightning è 72 gli arabi sanno a 75 vabbè gli arabi ha trasformato chissà cosa gli arabi non fanno test eh devo prendermi set clotti io da cleric ok quindi ti piace Reb è già all powerful è il pass reward bundle non li hanno cambiati i veterani al World non li hanno cambiati i veterani al World no penso non li hanno cambiati i vedi prima volta che gioco a questo gioco su un vero PC che emozione eh va bene e io streamando qualche pps e lo perdo faccio il centinaio 110 non ne faccio 120 pps con la grafica al massimo ok va bene io cosa le campagne si cominciavano a fare da questa parte ah aspetta arrivo arrivo lo potevi dire ti stavo cagando lì c'è una campagna che è i cazze se ricorda per me servono un NPC per lo scuotare io devo ancora consegnare quelle di una di Altgard faccio di Altgard di Lishogel Valurion è sopra? no Valurion è qua fuori è qua vicino alla porta c'è di uno che sono molte meno adesso le campagne sono sei sì spero siano decenti che non ci sia più che altro quella rompicazzo bruttissima nel villaggio dei Blacklow perchè oh vediamo era brutta mmmm quale? quella brutta quella di Alba si quella che ti va a fare un foto di volte avanti e indietro beh aspetta che ce l'ho completata si hanno lasciato revering the intrigue of Mao impending danger conspiracy of breakthrough si c'è ancora e allora c'è ancora ma magari la ti porta in giro lei magari ti te ne porterei probabilmente spero ma il tizio con cui dobbiamo parlare è sopra? eh si si vuole andare sopra ok devo vedere come avete fatto il PG oddio uguali tipo oddio il mio è strano tutte robe nuove facce nuove, capelli nuovi eh anche il mio nel senso che sono uguali capelli lunghi esatto il primi non c'è molta scelta sono gli unicamente belli sempre con la fronte aperta esatto potesse idem mi sono trovato un suggeri ticket e ho detto vabbè usiamolo suggeri ticket ahahah vabbè li ho andati gratis quando ho messo la 5.0 lol perchè io mi sono ritratto col PG tipo tutto malformato in faccia che avevano le texture cambiate eh loro se ne sono accorti evidentemente ma tu c'è un cleric sei ranged dati da fare non hai ragione anche tu io ho un arco ma stavo aspettando che mi si ricarica un attimo cazzo mi serve lo switch dell'arma no no cazzo era shift z ma shift z io ho tipo un invidia merda eh io ho finito oddio sto per morire io cado e muoio anch'io non sono vivo alz il sled mi son dimenticato che c'è cd per gledare non è play the soul ah ok è la prima campagna andata la seconda lì qua la cosa figa è slaughter livello 13 che ti da anche fisico d'atta io ho earthwrath tu earthwrath what the fuck una skill normale adesso si si beh in effetti anch'io c'ho absorbing fury che è una skill normale eh ciao beh io da cleric c'ho tipo punishing earth skill normale livello 30 vabbè ma è giusto le singole sono pochissime magari forse devi sudare anche un po' di più di prima no 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 anzi ha messo tipo che le puoi comprare gioppabili o qualcosa di simile ho letto perchè tipo tutte quelle vecchie sono rotte le puoi solo vendere non c'è niente tipo tutte le miglia di cose che mi tenevo da parte erano solo da buttare noble sigma bundle con reverse condition festering wound saving grace tutte tradabili ma ce l'ho anch'io sul cleric quella ma sono tutte tradabili questa città è ancora da aprire ma sono tutte tradabili? si si ce l'ho anch'io dato non ho ancora il clip vero? no io che sigma c'ho montate su nessuna wow ma sti fiori che sbuccano così come funghi man mano a quelli avvicini eeeh che cosa è sigma mi metto per andare io ho fatto tutto allora direi che mi metto e sacrificio al power fissa wow se vuoi fare SM fai SM non lo so mi pare che ti sto forzando a fare il cleric e penso che io ho un SM livello 12 vuole lei è partita faccio SM ma come non vuoi fare cleric? ha cagato le palle per fare perchè vuole curare vuole curare vuole curare arriva qua e faccio l'SM se lei farà il cleric anche io farò il cleric a modo mio smite smite perchè niente beh possiamo non farle queste giusto? ti sei la in cuore? ma io non l'ho neanche prese A me su Ion sai cosa mi pesa realmente Questa Suona questo blu che ti fa ammazzare sti cosi Sul giocarci A me non pesa il magari dovermi rifare il gear Perché il gear ha più avviso che ci si mette relativamente Un po' Ma lo fai giocando Per livellare che non resisto più Eh ma io Anch'io eh L'altra volta Porca puttana C'è siamo arrivati al 3 e dice se no passa io quinto Ieri Ieri si Io sono al 35 e non so come ci siano arrivate con sto personaggio Io devo ammazzare delle cose per una dei Delle Che tu non hai, è quella delle 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 players Eh io non ce l'ho al fatti Cacco al guazzo Ma non c'è più weakening blow No Mi è andato un po' di smash a livello 9 Tipo Questi knockdown al rango Vabbè facciamo questa cosa Qualcuno mi dia dell'attack speed Mi sento boh è bruttissimo giocare senza attack speed Posso ancora ancora accettare la movement speed Cioè il charge Madonna Punishing Earth che ti fa 2100 A livello 35 Un po' rotto Finita Ehm Niente Se non vogliamo fare quelle blu Mumu farla di spetta Aspetta No dobbiamo comunque farla però Dobbiamo osservare roba dentro Questa si Questa è da fare Quanto cazzo critto Cioè quanto ho di crit di base 52 vuol dire 5% se non ricordo male Oh Io mi ricordo che il cap una volta era 1400 Sì una volta era 1400 65 No perché avevano la strike race Sì 440 il cap Anzi 500 l'avevano portato 50% Quindi 55% Sì Ma dobbiamo osservare roba Vabbè anche Ehm Ti ricordo le percentuali delle stone Poi le davi in mano a Laura Entrava tu Dai non è vero Che cazzo mia c'era qua? Ehm 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 Ah dobbiamo osservare Ah no dobbiamo bruciare i carretti Ah giusto Non so quando abbiamo osservato Ma vabbè Vabbè Brucia tutti i carretti Tadà Anche a te No vero No ovviamente Ovviamente non hanno fixato quella roba Ti pare Posso ormai fixare roba utile Ma ovviamente Che avevano fixato anche della roba Molto carina Un po' di roba utile l'hanno fixata dai Eh ma serviva a vendere altri starter pack di Blood and Soul What? Ma ci sono degli Helios Helios? Sì Puoi togliere la coda eh Sì E io non l'ho tolta E neanch'io Io sì Assolutamente Ma sì E si può togliere solo alla creazione Tra l'altro What the fuck Vabbè Eh no Cintura Cintura E qua grata Fatti fare la festa Manca detto Quella è la No No What the fuck No Cintura Ed è viola Che tristezza Il carretto è qua in realtà Ah il carretto è qua Aspettalo Aspettalo tu quello Io vado a prendermi questo Quello qua Tu Madonna E' impossibile Forwaving Con questa attack speed Con un gladiator E una spear Ah no Ok Ah C'è di buono però che non devi più tornare indietro Ti si continua ad aggiornare Bello che io non faccio le esist a nulla Osservi Poi torni di là Poi tutto tranquillo E' finita lì Nulla di capo Beh Fa tempo che fai Sì lo so sono lenta Sì vai a cercarti i carretti dai Dove non respawnare Ce n'è uno di là su Che è lì Lo vedo Vado Se prendo io Ah Aggron che cosa è a caso Bravo Qua non dovrei aggrar nulla Tanto finchè non fai tu Non posso fare niente Manca uno Ma dai ma non può venirmi Il coso rank 1 Viola Eccolo Chi sono Ma dai Il nostro coso di sopra Fatto 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 Presa per il culo Non riescono a uccidermi Bella Qua sera Cosa Niente La gente fa sempre schifo Passano gli anni Mancano tutti i cosi In realtà Ah sono da l'usare Ok E devi luttare Ok Gli addresse sono finiti Ah io no Guarda Non mi cade bene A caso Finita no? No? Belt Ma non è l'uomo belt Poveri farmer Ma non ho ancora bittato l'ho già Tocca cliccare Buongiorno Buongiorno Ma c'è una vagonata di questi due Ma dal sick village Sono quelle questa No No aspetta Questa sera L'assig village L'assig è quello sotto Per tempo Sono tante più gatti No manca uno Ma vaffanculo No perché non è Blade & Soul Se tu lutti perché non si aggiorna a me Sono otto questa Nove con la campagna Fa un culo Era così bello su Blade & Soul Sta cosa Qualunque MMO in realtà Se io lutto Si aggiorna Non Ion Nope Nope Fa un culo Punish the missed main beat Ok avrei finita la quest Ion interest Si Lo rigna Tu consegniamo Tu pure No delle cose in Blade Si bella armatura Blade Mi piace No niente Andiamo a piedi Torniamo indietro In Fortress Io ho già l'elementario pieno Cosa vuol dire You cannot teleport in your current form Scusa Se io premo M E clicco su un flight transporter Mi dice che nella mia forma Non posso teleportarmi C'è qualche modo In cui io posso viaggiare Instant su un teleport Si se ci clicchi dalla mappa Dalla mappa L'ho fatto Mi dice che in questa forma non posso Probabilmente devi essere un nike da evo No aspetta ma dove Esattamente Cioè tu su cosa stai cliccando Flight transporter Sul flight trans L'icona del flight transporter Allora E c'ho teleport possible Esatto I gil 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 Si esatto Però se ci clicco su mi dice You cannot teleport in your current form Stai volando? No No Sei in combat? No Sto correndo e ci sto andando a piedi Sono quasi arrivato a campo Ma se stanza Io l'ho appena fatto Hai goldback? No Assolutamente Assolutamente Più starter che mai Non ho neanche un Un livello di veteran Eh io il veteran ce l'ho L'account è vuotissimo Non c'ho nulla Eh allora perché sta roba Aspetta che cazzo ti ho messo? Verda Infatti mi viene male Non importa Non importa E' da giocare once in a lifetime Sicuramente quanto ci potrò mai giocare ad Ion Conti fatti Allora torniamo al best In effetti contando che il 17 Le baciano di là Vabbè tralasciando che a te baciano Final Fantasy A me che cazzo me ne frega Ma non è vero non dire Eh no sì che dico così Perché non dovrei dire così Dov'è che sei andato scusa? Besfeld José Gatering Ciao Sì ma le queste dialsi che adesso sono molto meno cancerose Ma tutto è un po' meno tanto meno canceroso Ma dai mi chiede solo tre da fare Tre mob da uccidere per tipo Già solo e non dover fare nessuna questa è molto meno canceroso Xp boh così Perché è bello Un po' cucchiare No l'Amix mio close è quella brutta Infatti ammazzare i monos vero no Tanto non serve I forprezi devi ammazzare gli spiritelli d'acqua no no cazzo sono forti Facciamo solo le campagne Vaffanculo Ho detto facciamo solo le campagne Guarda qua ci sono solo queste da gathering Io che cazzo faccio Manco quelle blu facciamo proprio Vaffan Veloce Talk to Shania Shania è qua Sì ma stai già andando troppo veloce Un attimo Lo sai che io sono lenta Queste cose Direttamente ti da la boccetta di veleno da buttare nel laghetto Non devi prima andarti a prendere il veleno dagli indagni Tornare e andare ad avvelenare Cagate varie Ma soprattutto hai visto che c'è il teleport per Munin Sì È la prima cosa È la prima cosa Appena lei mi ha detto c'è una statua dove porta Forse che no Munin Ok Perfetto Una gioia ci hanno dato dopo sette anni Sì decisamente La scienza ne penso sia stata buona Quattro secondi Sì una volta ci mettevi cinque minuti Beh ma Poi hanno fixato il teleport dopo Verdandi Prima da Verdandi dovevi fartela a piedi Per andare da scuola Sì 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 è vero Ma proprio dal Già solo dal villaggio te la dovevi fare a piedi All'inizio inizio Poi i primi due teleport te li davano E da Verdandi a Scald comunque te la dovevi fare a piedi Sì Adesso ti hanno messo anche il teleport giusto Fino a Scald Cioè è bellissimo così E giganti pozzo La scrolla un po' la metto anch'io Cioè quella Helios si hanno messo dalla statua lì Già Pernos era di fianco Pernos era vicina sì Questa era fixata da molto più tempo rispetto a quella Quella Helios aveva una mappa che non era una merda Sì Quella Helios non era neanche in realtà fixata come credi Perché quella Helios dovevi comunque andartene al lago a piedi e puoi tornare Esatto Dovevi andare fino al laghetto fare tutto quello che dovevi fare Dovevi raccogliere l'acqua a mano dal laghetto e poi andare verso il centro da Noah Esatto Era un trauma Era una bella rottura di coglioni Alla fine entrambe erano una bella rottura di coglioni Quella ha asmo di più Sì sicuramente Quella asmo che questo è questo Perché la strada era più torposa e quindi si sembrava magari più lunga Rento Space Art Mod Sì 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 Io c'era ancora quella l'ho fatta Non avevo smesso ancora Ho fatto qualcosa di Rantus Bayesard Troppava delle mythical strane con Ah sì mi ricordo Sì 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 Era tipo i movi set invasion Sì esatto E l'ha messa tipo appena dopo ho quitato io Sì 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 l'ha messa subito dopo che avete ammollato voi Sì sì mi ricordo che se ne parlava che dei set suppression Eh poi ti fai quello di Rantus è inutile che ti fai l'invasion spendendo soldi Sì sì quello di Rantus non droppava però Ovviamente Eh io poi mi ero fatto l'invasion sti cazzi a tutti Io pure Era bellissimo il mio set invasion madonna Tana Shit armazzo Fresh Armazzo Sì è内ate gli occhiali è scandaloso come si è cambiato in due anni comunque è scandaloso come ci abbiano investito dei soldi quando era morto evidentemente gliene irritano tanti di più questo è da queste gli occhiali di marzio questi li vuoi cento top niente gli occhiali usa sempre marzio si quelli del tizio del momo livello 15 nel villaggio sono gli occhiali di marzio quelli no dobbiamo pure ucciderli ma non questi dobbiamo uccidere i non dimenticarti la bragi bet quella di alex dobbiamo ammazzare i black low non i feral ora puoi ammazzarli trovano ecco la posizione 1 datemi il cleave madonna vai tre di queste cose non cambiano capisci veramente che giochi una cassa di merda quando fa il clerico che il primo mod fa i resi diciamo che capisci che non è fatto per far tps anche se in realtà è tipo top tps anche se in realtà è una delle cose che bucano di più in assoluto non so se è questo datapack ma si chiama crash si crash per me sarà sempre smart le odiano probabilmente sarà solo il datapack europeo che l'ha cambiato ti pare che cambierebbero una roba del genere cioè quella è smite punto come il root si chiama restrain si si qui c'è vabbè il saving grace che aveva già un altro nome excuse hand qui c'era sacrificial power che si chiamava in un altro modo ma si ma le avevano già cambiate tempo fa giocavo ancora quando ho cambiato quelle rosa infatti vuoi ma non c'è anche c'è non esiste più il datapack americano non ho trovato l'opzione se non sbaglio da ti sei bindata a best fight? mmmm sono bindata a best fight? si può essere si cambiava con con rain meter si aspetta che prendo rain meter e guardo tools io penso che ci siamo japanese script font help benchmark no no? no 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 però semplicemente hanno detto voi gli europei ve lo tenete così ma basta si oppure conflittava troppo non lo so non lo so probabilmente perchè ormai prima c'era il tastino scarica da tabacca americano e adesso non c'è più no beh ha comunque senso perchè è giusto alla fine però ti rimane un po' la mare in bocca perchè hanno dei nomi di merda riuscire 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 che ci avevo fatto caso io ci scherzi già so chettata attack ma dai ma che scicchata cosa si chiama attaccuno 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 e beh minchia che ti ti ha mandato attacc due erano delle trenta le due erano delle trenta E ora basta, speak with Ulgorn E' vero, e' vero Eh, speak with Ulgorn Eh, con le due facevi le 5 Però, per craftare Eh no, quella di Ice Disagrion Siamo a livello basso E' a fare Aramel Tu te lo ricordi che le due le usavi e ci facevi le 5 se si proccavano Cosa? Le due? Si 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 Facevi le 3 se proccavano dicevano 5 Ok, dov'era? Metodi alternativi No, non è per fermare che a un certo punto le 5 costavano un patrimonio in mezzorene Oh, l'ha scritto e' giocato per un'ora per favore prenditi una pausa Non nemmeno Due forse Quasi due Troppo non e' mai quando si parla di Aion Poi c'era il 24 E' troppo il tempo che ci ho messo per arrivare qui E' troppo il tempo Era 24 ore e c'era lo shutdown del client Forzato! Già, vero, a 24 ore si spegneva il client Ti buttavano fuori Almeno 30 secondi di reboot te li dovevi fare di pausa Non ci sono mai arrivate a tenere il client aperto Ah, eh, a voglia Voglia Prende... per cominciare 24 Guarda tipo, vuoi il messaggio sui gare butter side Mi butta fuori A parte che... giu, impetusimo A parte che quel messaggio Non lo so, lo vedevo Penso un giorno si e il giorno dopo pure Perché lo lasciavo comunque sempre acceso O craftava o faceva robe O non dormivo O non dormivo Troppo sbatti di lungare No beh, di solito comunque un giorno si un giorno non dormivo Quindi... Che brutta vita Oh... Stasera andiamo a mangiare al Mac Qua il meteo quanti gradi mi segna Eh, ma farà molto freddo Quattro, però la minima è meno quattro oggi, quindi... Allora, prendila queste di qui Mi ricordo se c'era altra roba, non mi pare No, dobbiamo solo fare la roba di Scard e Dodium La prima volta, quelle stranzate Poi era la seconda volta che avevi un sacco di queste Ah, giusto, vero Conviene usare il boost di EXP Per... per Aramel Non lo so, sai Io non li ho usati perché tanto... Me ne danno talmente tanta che fa... Paura Tanto è solo per i mob, quindi... Beh... Ok, non importa C'è le quest che, boh, ti buttano al 21 E le quest non le stiamo facendo, proprio Obbiatamente ignorando, campagne e basta Eh... Lo so, ma tipo le quest di Aramel, quelle blu Eh, sì, sì, sì Mi ricordavo che adesso ero tantissimo Eh, mi ricordo che uscivi ed eri tipo al 21 No Enter to the... Io quei robi me li sparo tutti, invece, mondi, raffanculo Penso che dobbiamo evlupare, però Se si fa ancore Eh, sì Ah, ma sì, si deve cliccare Fanculo non passa in automatico Oh, non mi ricordavo che bisognava interagire con i portali Che vuoi? Sei calma Io sono calma Io sono spito che si agita Io sono calmissima Non è vero No No Pensa a me che sto ammazzando dei Cressfish Mi dispiace Per i Cressfish, ovviamente Ehm Allora, questa le indossiamo Allora, devo ammazzare tipo tutto quello che cammina Più prenderlo odio nella prima volta Però, per favore, una scroll da tax speed Perché sennò io divento scemo E muoio, e scoppio Ma poi ha visto che ci sono delle robe Chiamano tipo greater mana sonore Sì Ehm Lutti direttamente E li apri Per mana son a caso Ho pure le tradi Ma... Ehm Eh, la speed Che bel sogno Mi ha dato le abis 3 Ehm Ok Un attimo gli attack speed Moon speed Già riesce a slidare tranquillamente E L'absorbe in fiori Per queste cose non si dimentica Come andare in bicicletta? Ehm Ehm Però datemi cleave, per favore, almeno Però datemi cleave, per favore, almeno Noo Che palla Allora, sto tizio qui Sì Non diluto, vero? Che bella cosa Anche salvation Che ti puoi reccare il mana Salvation era mancato Spero che è salvation La dp del cleric Ahhhh Ehm Già Vabbè vabbè è sempre stata così Sempre recato vita e mana Almeno quello minchia Dario Il motivo per cui il credi che era figo da trasformato Madonna Ogni minuto pre full gratis Sì Sì perché tanto 2.000 dp 2.000 dp li cagavi come niente Madonna Per carità era C'era anche l'aquita e il brilliant Per togliertelo Per togliertelo Ma te lo toglievano Quella non te la potevano togliere Infatti l'aquita dovevi andartene dietro Davi via, te lo facevi, ti si chiavi Anche il brilliant era enorme Madonna Il brilliant era indispellabile Un po' tanto pcd Sì Solo un ora Solo un ora Ma adesso l'hanno passato no? Sì ma l'hanno revorcato proprio il brilliant Mi sa Adesso te lo dico Non funziona Perché mi ricordo che dava anche un self rest ora Pure Nooo Quella è la confusione con una roba del bardo Mi sa che era simile ma vero Al bardo gli è andato qualcosa di broken Al bardo? Io infatti mi son pentito che non ho fatto bardo, guarda Però ha detto no vabbè gladienza Gli è andato una roba tipo di Una specie di world of wind permanente Gli è andato al bardo Buono Però ok Un buono Quella roba ce l'avevi prima per 10 secondi ogni minuto mi pare Sì Eccola qua Brilliant Protection Restore strength of maximum HP to you Your group members 25 metri Level up Incrementa di HP del 30% per un minuto Eh Ah il 30% di healing in più E se sei E se ti ammazzano Ti fa l'endoframe carnation No Allora anche al bardo gli ha mandato una roba simile T'è Eccolo Che Che Eccolo Vabbè Grazie Il mio problema è Ricordarmi che non posso Gladeare Fermarmi e rigladeare subito Quello per me è un grossissimo problema Perché sto rischiando di morire troppe volte E che prendi danni da caduto? E che? Prendi danni da caduto? Quello qualunque gioco Niente Divine Spark Eh Divine Spark Belle cosa Troppo forte quella roba Aspetto ad ammazzare le roba Era un... Tre... Sì ho tutto C'è certe cose comunque Sembra di non averne anche smesso Per due anni E tu vai tranquillo Sai... Vabbè Parliamo di strozzate Per adesso Però comunque Vengono molto 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 naturali Come se le avessi parte niente La prima volta Con l'ho la meno la prima volta Perché no? Beh con l'ho semplicemente Dove abituarti che cliccavi Cioè là Stiamo parlando comunque di... Giochi... Di genere diverso Eh sì Che cosa sarebbe esattamente il magic powder? Double click La hater no? No? Sì ma l'hater Se ho mille magic powder Posso morfare la hater What? Eh? Cioè adesso con l'hater powder Fai la hater Morfi la hater Cioè doppio click E fai la hater Allora craft Morf Sì infatti dimmelo perché Non sto capendo Aspa con i the iron hole Solo che è un po' Un po' Non lo so Per me Allora mi pare che al 19 Si imparassero skill Cazzo ma io c'ho La staffa di chrome E devo fonderci sotto la La Eh sì ma staffa magic boost Fino a 50 Che c'hai la hater Cos'hai Non l'aveva messo qualcosa? No non l'aveva messo nulla ancora Su quel piano La cleric Deve usare le mazze Le mazze fanno schifo C'è repulsione contro le mazze Sono così belle Povero mazzo Albre Chibirago Chibirago Oh che bello Squishy Una tra le cose più Facili da fare Veloci 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 Allora vede il sistema mi però riscolla nella barra Non mi si sente più Io lo sento C'è stato un momento della sua frazze Che non se la mette C'è un frazze C'è un frazze Ehm Frescio della Era quella qua fuori Finiti virago A Il Dimmi che Dici C'è una Mi donna Clived Yes Bello No Se lo fai il Great Cleave e il Glacius Cleave era al... 40 Eh, che a me Vuoi il Quoth Cleave rallenta? Gli hanno messo lo slow, se Non c'è più il Great Cleave, vero? No, no, slow va di base adesso Vero, non c'è il Great Cleave! Oh mio Dio! Adesso fai semplicemente danno e slow Premi solo 4-4, se procca ancora 4 4-4-4 4 stelline Quattro cadaveri Certo non mi aspettavo non facessi il Glad, però vabbè Cosa ti aspettavi? Facessi Sin? No, il Sorcio E l'ho creato il Sorcio, poi sono andato lì e mica Flamebolt Flamebolt Ice Chain Però c'è il Strike Sì, beh, non è che sia meglio Pianifichi di tornare a giocare, l'hai fatto per tornare nelle grassi di Enzo Ma chi fa? X viene qui Se lo sa? Altro che Se lo sa di busta Se lo sa mi fa cagliarmi Se lo sa mi fa cagliarmi Si, infatti Il gatto è sempre Ma sarà diventato probabilmente lui arabo Si gioca ancora Si, di giocare gioca sicuro Magari meno probabilmente fa solo le stronzate daily e basta Ma non lo so nemmeno in realtà Ma cosa è shottato? Ma da cosa? Via Tutto è cattivo Tutto è male Ma qua mi sa che in realtà la prima raviara me è basta Si, infatti non ne serve faremo Si, io non ne faccio Non ho mai fatte due Io ne ho sempre fatte due Però mi sa che non è il caso Secondo me nemmeno No Pulire Puliamoci danni Che tu sei troppo veloce Sono andando anche senza scroll Ma sei troppo veloce comunque Ma un gladiator Non puoi essere veloce Non puoi essere veloce Sono l'anticristo per ora E' veloce Ma cosa? Non ho mai sotto neanche il charge Dai E' fino al 50 tipo E' 40 gladiator fa pietà Sempre pietare gladiator In realtà per le cose Quando sei full gear è un treno Si Perché poi permette di riagrare realmente cose E farle insieme In fatto è quando sei full gear Se il treno sei full gear prendi sotto schiaffi Quando avvi tante robe Mi trovo meglio con questa qua Vendi 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 No io il clip ce l'avevo sul 5 Non sul 4 Mi viene troppo naturale premere 5 Vero Come ti ricordi Come avevi departe Si premo 5 Non partiva Cioè io non è che premo quello che vedo So che il clip nella mia testa E' sempre stato 5 Esatto Io prima stavo cercando di fare una cosa E non avevo il tasso di seduzzo E non riuscivo Non partiva Questi ricordi muscolari Uhhh ho uscito Ameroon senza che si scudasse col gladiator Oh mio dio Sei forte Oh mio dio Perché? Ma l'Etherpoder c'è comunque Aspetta perché le armi di Chromede Mi escono già upate a 5 Eh perché la karmic weapon te l'ha andata al 10 Penso sia la stessa cosa No ma da Già su che faccia? Ahah Explosion of rage Ma che cazzo Si è una stronzata Ma meglio no? Cazzo ti lamenti? Va bene Ma mica mi lamenti Anzi E che ci avevo già una staffa Era già pronto lì con le manastone Ha farmato come un cinese 2 ore Solo per le manastone e le pietre Eh eh Poi apro il cosino e me l'avete già sorpettata Eh ma non c'è ma non serve Però oddio in realtà le... Sono al 20 Second wind Eh? Oh Si ma al 20 Si ma al 20 Cazzo prima era... Era al 54 e dovevi grindartela a second wind Eh... Stavi in case Oh mio dio sono una persona felice E dual wield E dual wield Dual wield lo sapevo che... Che era lì pronto in agguato Ma non mi aspettavo il second wind Well wield si vabbè ci sta The wield ci sta Lo sapevo che era una skill normale La imparavi al 20 Perché la stigma era a livello 20 Ma... Non era esattamente livello 20 Second wind Vabbè io so... Però c'era in bring stamina al 20 Però c'era in bring stamina al 20 Aspetta dove cazzo si è Probabilmente l'ha semplicemente sostituita Ci sono quasi Però io al 20 non ci arrivo Arrivò va malapena a 19 Ma io cosa c'ho al 20 Lol Ah non possiamo mandarti qui Ah non si può Si 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 l'hai invulso di retaliation mamma mia Ma è una stigma o una skill Ma è una stigma È una stigma E io stigma Che cazzo c'ho Eh al 20 ho preso di skill normale Unlearned skill Ma sono pochissime le skill adesso comunque Ho preso la reincarnation al 22 Il cleanse al 23 Ma quante cazzo sono? Allora posso mettere Draining Blow Earthquake Wave Hole Siege Breaker Ankle Snare Magic Defense Cripling Cut Down to the Spirit E Lockdown Beh Si si Lol Draining Blow Va fa culo Draining Blow Tutta la vita Dove si comprano? Dove si scelgono? Non c'ho dato le sacchette No 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 Nè il primo personaggio Ah E allora Boh Pan Tira sul cleric Pandamonium Spero non vogliono tanti soldi Dove si scelgono? 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 Sì ma non mi puoi La cromede staff Socchettata con attacks Sì ma perchè lei a livello Merda c'ha Punishing Wind Te l'ho detto Anch'io c'ho Slashing Wind e Punishing Wind Tutte te ne andate Punishing Earth Wow Cioè xpia a cannone adesso Sei un cristo di DPS Quello clerica A livello cazzi Sì 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 E prima eri proprio brutto Finchè non arrivi almeno a 40 No no adesso sei Sei un treno ora E fai anche ciuf ciuf Investi la gente No veramente no E' un treno il clerico E fai anche ciuf ciuf Mamma mia Quindi vuoi rifarlo o no? Ti ripeto A che livello dobbiamo arrivare Se tu non mi rispondi Guarda possiamo già fare le campagne Quindi penso che possiamo Sbatterci nel cazzo E andare a fare le campagne Con le campagne arriviamo Io non posso Sono un livello indietro Spiegami perché E' quello che ti sto dicendo Oh rifacciamola Hai altri quest E' sicuramente i livelli La rifaccio anch'io per passar tempo Quello ti stavo dicendo Io ho le queste Returning player Ti ripeto Io ho qualche Quindi ne hai qualcuna più Extra Lo prendo Non tanto ma Però devo usare la scroll Penso Instancing for Aramel No Entries Unlimited E allora Però mi danno ancora la scroll Oh mio dio Puoi fare enter o re-enter Puoi ristenziarla subito Che figo Devi fare enter Non re-enter Adesso quando tu Tipo ti ricordi che quando uscivi da un instance in solo dovevi aspettare che si ristanziasse 20 minuti Sì Adesso no Selezioni enter o re-enter Se vuoi entrare in una nuova e quella vecchia Bellissimo Sì è stupendo Per Chrome Ristrile sarà bellissimo Allora Visto che comunque il gear non è socchettato Proviamo a metterci delle mani Se non fossi Aion ti giuro sarebbe un bellissimo gioco Teirate è comunque un bellissimo gioco Allora Hanno cambiato anche la cosa di socket Che siano di soccettare da un'altra parte adesso Allora Revolution Enchantment L'hanno messo tutte in un posto unico Ma è meglio quello Madonna Poi non ho capito se ci puoi anche fare Se quella sottospecie di guardaroba lì Ti toglie definitivamente le skin Secondo me Sì fino a che le vieni lì Le puoi usare tante volte vuoi E quello sarebbe già Parzialmente accettabile Se le togli Si Si toglie Io capisco cosi Secondo me Però non avrebbe sì Puoi iniziare D'alena a rinno in il water By using to check the figures of various items D'alena will be deleted from the inventory And can be only using the water So no No At the beginning Un po' strano Sì un po' Però può fare funzione Ma il karmic uo è pure a 10 scusa No No è il frog Il frog è l'uomo Non è karmic Ma poi io mi sarei messo dei set Nella creazione che sono qualcosa di bello Si belli Bellissimi Quelli son belli veramente Ok chain Sì 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 Oh le scrollo finalmente vanno in stack quelle che ti danno era fottutamente ora ma più che altro è vero che non ci sono lesser cazzi quindi immagino costino anche di meno per forza di cose e probabilmente adesso le crafty anche in maniera diversa sicuro io craft non ci sto neanche guardando sto guardando niente in realtà nelle skill che imparo ho visto di sfuggita la skill list perché volevo vedere le stigme che potevo mettere e sono tante di meno le skill proprio tante 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 misure su un secolo della nuova da forfatti io ho fatto già la parola di cleric eeeh ho trovato degli slot liberi che prima non avrei esatto vedete qui tanta roba io ero esagerata la parte ma anche da che la chiesa era esagerata che la chiesa è un po' il summer circle non c'è più mi sa che l'avrà un patto unico non posso non farlo unico era troppo sbagliato perché ti abbassava delle resistenze opposte no non c'è più l'hanno proprio tolto rimosso no è meglio me lo sbatti cioè non lo usava nessuno no lo usavano tutti e che dovevi ricordarlo alle persone esatto io lo usavo quel coso ed era molto comodo in tante situazioni vedi TH cough cough vabbè adesso niente non ci sarà più da urlare al massimo una volta dici summer circle please il ticcio ti scrive cosa da 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 un alimo usarlo mi sento vecchio siamo vecchi molto ma perchè sto mi sento la storia della drag speed così all'improvviso rippo si non non esistono eh vabbè meglio meno roba dai cazzo vuoi oggettivamente certe classi in certi momenti erano complicate ma non complicate perchè erano difficili complicate perchè avevi tante cose da premere e o eri veramente bravo a muovere le mani o non ci riuscivi così ho un po' che la paghera di tutti si questo è vero e a quanto ho capito Aion sta puntando molto su tutti che è lì dove ha apparito Blade and Soul alla fine secondo me non deve essere per tutti il colmo comunque qui ti Aion per Blade and Soul poi qui ti Blade and Soul per Aion dopo un anno che è un po' non è un senso i triped monsters a costo ma aspettavo che fossi un po' più veloce a rivellare sarò sincero Sì, sono persa, da che partito? Alla sola Alla sola Ho critato Explosion of Rage, ho quasi shotato il boss Sei Explosion of Rage L'impalata Si smette mai di imparare E quando smetti vuoi ricominciare La skill mi era mancata realmente Diciamo che il grado di ignoranza di Explosion of Rage non è differente E poi è meglio lano Tutto è intorno a te No Se mai è sotto di te la roba Stiamo parlando di differente Ah ok, scusate Errone Anche se, mi sarebbe piaciuto fare il scene Con il fatto delle migliorie, ibridazioni, traversioni Helios e Asmo Ah, una cosa non ti ho raccontato Eeeh, su Final Io ho trovato uno che giocava su Iron E si chiamava Neyako, non so se te lo ricordi No Che aveva il nome simile a Laura ed Erasmo Non mi ricordo E lo confondevano con Laura All'inizio Sì Perché aveva il nome simile E quindi? Si ricordi che c'era uno simile, no? Ah Yako mi ricordo E lui era Ah ok Ehm Me lo son trovato su Final Fantasy C'ero in Free Company assieme Vabbè Eeeh Mi diceva che lui Aveva approvato il client con la 5.0 con le migliorie e tutto Perché non aveva ancora quittato E mi ha detto che in Siege lui faceva tutto fluido, tranquillo e senza shift F12 Dole Da un portatile Beh lì dipende anche quanti FPS ti accontenti Però sicuramente Essere giocabile che non ti crasha e... Esatto Che ti scoppiava il computer E penso che le persone ci siano in Siege adesso Perché mi sembra bello attivo C'è un bello pieno oggi Non è come una volta che ci sono 20 persone al Siege pre-organizzati Io vengo tu non vieni Ehm Magari comunque si ma Penso sia più difficile Ho tre server Oddio qui sono due server Sì qua è nexus è kebab E' kebab E' per ento E' per ento è vero anche per ento Vi stiamo dimenticando tipo il server video Vi stiamo dimenticando tipo mica e tutta quella gente lì Ah giusto Di prezze e compagnia bella Giogen Vero Giogen Ecco perché c'è Giogen in giro Vero Oddio Giogen 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 come bella Giogen in giro Ti soffie Sì, evidente, veramente. Ci giocherò ancora a tutti? Ci ha cambiato un cazzo. Nooo... C'è The Knight che governa adesso, come già una volta. Qui c'è Max Commander e Warping Quarta, quel genere. Perché non esplisce la cosa? Neanche a me. E Warping ha un nick ancora diverso, quindi vuol dire che gliel'hanno bannato un'altra volta. E poi c'è Azaco, Argeclam, Dino e Nika, sono Osmaldi. Io sono Osmaldon, quel cazzone di Ferenton. A 21... Io ho fatto il 20. Dino... 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 Adesso gli ho tirato l'ADP e si è sfidato. E al contrario, stronzo. Dino... 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 Ok... Devo liberarmi un attimo l'inventario... Dino... Adesso... Dino... 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 Uff! Pena... Dino... Cosa?! Posso entrare al volo?! A... Davvero? Anch'io? Sì! Costa me, vendi a meno ma puoi toglierti tutte cose dalle palle subito. Cosa? C'è il merchant portatile, puoi vendere a volo camminando in giro. Il tasto, sull'inventario, il tasto accanto al cubo. Inventory Shop? Sì. L'ho cliccato per sbaglio. E basta. Gruppami. Tutti i gruppo. Più non funziona, quello funzionava. Vi era la friendlist. Vieto gruppo. Ma questa, questa come si fa? Scusa. Go to Altgard Ice Lake and use the invasion detector. Ehm... Hmm... Ok. C'è Altgard Ice Lake è questo? Ho fatto una strage di Spregion che non ho lootato. Boh, vabbè, a fare le campagne. Non mi va questa roba. Intanto posso mettere il titolo. Oh, Man Whisperer. Dov'è che sei? Scusa. Verso Premium. Mi troverai magicamente. Oh. Farla con Jolak. Sei in WM e ti troverò magicamente. Ti ricordi come l'icona del... Ok. Ti ricordi neanche l'icona del party member? No, non ti vedevo. Certo. La duplicate plans e la disfreggo loot Come? Sarebbe bello se trovassero però Gesù Oh l'animazione secondo wind è uguale, cd uguale e la durata è uguale C'è un piatto nulla Oddio, ciao Gulux Sai se è sciotto ancora qualcosa? Penso di sì Molto probabilmente Io non voglio più andare in giro per la karmic spear, non mi piace, è brutta Uffa Oddio il 25 Duplicate plan e snap Anzi il 26, c'erano le quanti attack speed? Mi farei il 26 o no? No forse erano quelli del 21 Al 26 si avevi la spear attack speed quella blu La spear blu si Ma non mi ricordo però Per i guanti Quindi attack speed mi sa che sono quelli abyss Eh no Avevi qualcosina anche al 26 già forse E poi avevi quelli o abyss o quelli dopo che ti davano un 36 Sicuro Così mi faccio il 30 elite Costeranno tipo uno sputo Quanto possono costare quanti 30 elite? Minchia da 5000 AP Eh ma tu hai la... Le veteran no? Qualche AP ce l'ho da le veteran, si Già fai Minchia mi basta una major crown penso Io non riesco Non posso Dopo guardo però Su sto account mi pare 30 qualcosa Oh no aspetta 24 sicuri è con le lucky wings Sì le lucky wings Boh fammi guardare lo gonazio Allora Ion Game Forge No in realtà il sito è n.iongameforge Quanto da gioco proprio dallo shop? Eh no ce l'ho disabilitato Ah Bat Vero? No Arma È un'opzione di arma No Ho 32 addirittura Quindi qualcosa ce l'ho Ehi Dobbiamo andare Eh ma è vero Ho tipo qualche pet Come l'acqua grifo Espansioni di cubo 15 expansion key E dai True black True white Felicitus Arancioni 60 Poz Exp Sì Qualche major crown C'è una decina di major crown No di più Almeno 30 major crown Eh Quindi a 300 mila Un bel po' di platinum medal 70 level stone Tantissime emot Ticket arena of glory Oddio l'arena of glory Veros expansion Fire head Ha detto vai o ne lo alloco Subito Dire il rumore dell'express Ha detto vai o ne era titolo che dava roba Tipo attack speed Move speed Tutto No Era Solo attack speed Allora No attack speed Accuracy fashion Non è vabbè Meglio di niente Ah C'è The Cut Meow E' vaffanculo The Cut Meow Cosa da? E' bello E' bello E' bello Puoi cambiare nome stat Come Da flight Magic Boost Mi ricordavo il Magic Boost Anestamente Flight Un po' meno Mi c'ho Legendary Hunter Che mi da 2% di speed E' 6 di perno Credo che dite meglio che possano No Mix Ma una ci fa andare a morire Allora Potremmo uccitire 3 Sì sì che hanno aggiunto Quella roba lì Sì sì Allora 3 Black Claw Ma E' spy On the Black Claw Outpost E' vinto di qua comunque Va benissimo Allora i Cloudworm Li ho finiti E' sì Ancora E' le Spine E' le Gorgon Questi sì però E' uno Non c'erano più una volta No No Non c'erano più una volta Ma queste le amassiamo due Sì ma Una volta Sì ma Erano più Ma due Sì sì Erano due qua Non c'erano più una volta E' un giusto E' un giusto però Qua sembra una tonata di più a est qua E' uno ci serve E' uno Cosa devi luttare da sti rob Cosa? Cosa? Cosa poi? Ma non troppano niente Non possono troppare Gosto Ma non li riusci Del Red Lava Cliff Sì C'era la quest Dei Dei Silver Coin Sì Sì O lì Petra Ush Cosa su lì Sì Ne ricordo Sono lì Ma me la p***a Stai venendo un attimo la nausea Perché ci sono sette quest Questo è quello lì Non fa ammazzare gli eliti In questo gioco Non era neanche bravo Era quanto velocemente Potevi scoppiarli Sì E lutta Da Ehm Manca uno giusto? Da Una l'abbiamo finita Manca spiare L'outpost E' indietro Almeno a me la segna dietro Sì Anche ma Perché non c'è la giornata? Ma lo segna qua? No Le Gorgon Sono solo tre Mi piace Ben utile che Che è il draft Se sta morendo Insomma Oh Ehm Come funziona? Oh Forse dovremmo trasformarci Forse dovremmo trasformarci Ehm Qualcosa del genere Ma non c'è nessuna Mi ricordo anch'io La trasformazione Ma non mi ha trasformato No Probabilmente Probabilmente l'han cambiata Boh Parliamosi un attimo Vediamo se ci fa Qualcosa Non penso Qualcosa Ehm Ehm Qua da Collardo Oh Mett'altro Area lockdown Oh Vabbè Andiamo avanti Facciamo l'app Non vuoi provare a Farla? Ehm Più che altro Se non la fa Non la vedo un po' dura Proviamo ad andare all'altare Se non funziona Andiamo a morire Già Il fatto è che dovremmo farla Per Eh sì 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 Certo Per sbloccare quella dopo Proviamo a salire di qua Non lo so Però ammazziamo i per fuggire Certo Sti cosi Ma non avrei avuto niente a curare Non si può avere tutto Questo gioco è più generato Dove è il mio Kung Fu Master che fa tutto Vediamo se arrivando all'altare Cambio qualcosa Ah vaffanculo C'è il golem di merda E infatti Certe cose non cambiano Visto che c'è una realtà I dole C'è il gole Tira i doti sui doti I doti sui doti I doti sui doti sui doti sui doti 15 mi dà, il target è troppo lontano, scusa, io odio quella voce, cosa lo diceva, quella? Ah, eh, da, mettiamo gli occhiali belli, ah, adesso ci siamo, adesso mi sento una persona nuova, do ammazzare vagonate di SeaBatron, che porca troia, hanno ancora gli occhi rossi di Last Man Combat, sì, almeno quello, ma vedi, non hai il pelo, in realtà più che pelo adesso è una coda, ti esce dalla parte bassa della schiena, non dall'alto, non so se ricordo male io, ma a me sembra diversa, è diversa, è diversa, una volta ti arrivavo dalle spalle, ne hanno tolto completamente le unghie, le unghie li li hanno cacciate, vero, non hanno gli artigli, le hanno tolte completamente, oh mio dio, adesso sono degli, puoi farli quasi lo stesso colore degli Helios, praticamente sì, sono degli Helios, sono degli Helios, un po' più bluaste, e magari con una coda opzionale, è con una coda opzionale, infatti ho delle mappe più belle, tremendamente più belle, e delle musiche molto più belle, Beluslan, madonna, un'intera bella, anche se in realtà a me gli artigli piacevano, però, anche a me piacevano gli artigli, infatti non è buono, non è tanto da smononare per gli artigli, poi ci sei rimasto molto male quando l'ho visto, ho cercato lo slider artigli, ma l'aria non c'è male, no, questo gioco, se prendi qualcosa in target, parte, ma che merda sto giocando, eh non lo so, non c'è, lo so, come ti posso far crashare il pc a distanza, non puoi, purtroppo, non si può, purtroppo non si può, tossalo, mi hanno dato due giorni di ferie, eh gli è venuta la massanete, ha detto un po', cerchiamo un paio di ore a dive, arriviamo magari tipo al 50, per cui intiamo di nuovo, esatto, puttile, bello, così giusto per buttare nel cesso dei giorni, letteralmente proprio, prendi i giorni, li butti nel cesso, io in due settimane di poi, lo sapevo, no ti giuro io non ce la faccio, poi non ce la faccio, l'ho aperto una volta, dopo ho fatto tipo il livello, c'è lo 20, giù di lì, ce l'ho fatta, dai Alex ha già fatto tipo 10 personaggi, uno non c'ho tempo, perché veramente posso giocare un pochino la sera, quindi già in partenza c'ho voglia, no poi più che altro, cioè abbiamo preso Diablo per la PS4, è troppo bello, giocare in cop è bellissimo, cioè veramente, hai uno schermo intero, giochi in cop, basta, in locale direttamente, alla fine te il plus l'hai fatto, sì, certo, per un mese, no, per un anno, boh, non lo so, non l'hanno messo in offerta, ma io per un anno l'ho fatto, però l'ho preso, non con l'offerta, l'ho preso il codice, da G2A, pagato 40, davvero? Sì, e dove, che lo prendo anch'io, da G2A l'ho preso, o da ISAN Gaming, comunque uno dei due, io e G2A mi pare non ce ne fossero, perché avevo guardato, mi è finito, andiamo, stavo cercando, andiamo, un solo a scroo per altro, perché l'ho preso in quel modo, allora dopo guardo, 40 euro ci sta, sì, 40 euro per un anno, boh, te li do subito, no, infatti, anziché pagarne 7 al mese, perché se finché non lo metto in offerta, insomma, 50 euro per un anno, 7 al mese, eh, ma ormai l'offerta, se non ti è poppata, vuol dire che, mi riesce più, eh, che senso, perché anche a me non poppava l'offerta dal PSN, mentre a mio amico poppava, perché lui doveva rinnovare il plus, che non ce l'aveva, a me si è rinnovato da solo, pensate, ero in vacanza e mi arrivava il grazie per il pagamento, eh, cosa ho comprato, ma io non ti ho pagato, bene, e infatti diciamo, ma che cosa è quella cosa, non capivamo, e quella cosa, poi penso 6 euro e 99, questo giorno qui, no, il PSN per forza, e va, che sei sempre in sole, immagino, eh sì, vediamo, comunque, e gli ho dato un anno e, ma sono qui, eh, ma 40 euro ci sta tutto, se avessimo anche dei giochi belli, come quelli del PSN giapponese, ma di forza i nostri sono belli, e che, sono magari dei geniti particolari, che, insomma, dei due tentacoli è bellissimi, però è una pezzura grafica, no, tocca a se brucia quella di otro senza, senza attack speed, senza estendibile, senza estendibile, però le estendibili, vabbè, non male, non ce l'ha, tendibili è un breve punto, il giusto muore, ma secondo wind, a creare 4 balo di gemme non funziona, non ho più voglia di ammazzare Petra, il gioco mi sta portando allo stesso momento, Madonna mia E' pur sempre Aion Semplificato indubbiamente Ma è pur sempre Aion E' prima ho beccato un Twinkie Con Un poso Livello alto Viola non riuscivo a non uccidermi Correvo e mi disperlavo Che triste Ed ero senza le scarpe 21% Quindi loro mi riprendevano Ma io senza quanti senza scarpe mi sento perso Perduto proprio Capito Capito Anche io mi sento abbastanza saturo per oggi In realtà A un certo punto diventa pure pesante tornare a livellare per questo suo tempo Quanti è che andiamo avanti? Non sono più abituato No, minchia per niente Siamo vecchi Siamo vecchi Siamo vecchi Siamo vecchi Una volta facevo in due giorni Uno sessantacinque Tre giorni Uno sessantacinque No, sessanta Dai, sessantacinque no Alex lo faceva Ogni giorno Perché Alex era una macchina Sì, Alex andava un po' più avanti Alex è invecchiato un anno dopo Io ho fino a vent'anni era una macchina veramente Poi son calato malissimo Dove sei? Dove sei? Ah, di già Che devo fare? Oh, siamo nella stessa mappa A manchia more, mi immagino, si fanno solo campagne questo blu, vero? Sì, ho fatto questo blu Hai giocato due ore, scherzi Due ore E poi si grinta a Fire Temple la rulla ad un certo punto Per l'Expo Fire Temple Ma per questo blu tu intendi blu blu, vero? Non azzurre Quelle scure Blu blu Sennò te li chiamerei azzurre Non si sa mai Magari sei mezzo taltorico e non lo sai No No, tante cose tra cui stronzo ma non taltorico Ognuno Mi prendo le campagne e le queste due Queste che adesso tra l'altro si mettono da sole nel tracker Per marle Oh, è dopo l'incarnation così Nooooo Dobbiamo andare a pandemonium comunque, dobbiamo fare la quest e le stigma E sei notato? Ti hanno levato le beards Sì, ho visto Ah, adesso spammi solo l'incarnation È solo la reincarnation Beh, almeno è giusto Sia su di te che su un altro Non è più giusto Sto facendo bene, almeno scegli chi restare se è te o qualcun altro o no Chiaramente non è quello che vuole fare Eh, ma non hai l'opinio, grazie Ci sta E ora c'ha dieci minuti di cd la... la reincarnation È dura dieci minuti? Oddio che ha li belle 30 Guardi di sto tizio, sono bellissimi Ah, dura 30 minuti cd 10, oh mio dio dai Ma che stronzata è? Un per cleric l'hanno reso una macchina da cure sempre di cui Ma è giusto, è un cleric È sbagliato È sbagliato che prima era semplicemente... Prima era... Cioè, se tu eri un attimino bravo specialmente Era un peccato A pagare una volta Ma non è neanche quello, è che se tu eri un attimino bravo a farti PS col cleric Era un peccato curare Sì, sì Sì, io non volevo curare perché... Bucavo le cose Ti dispiaceva, sei consapevole che potessi fare così tanto danno Poi c'era lo stronzo di merda sorcio del cazzo che non sapeva fare niente E tu... Siamo in live E beh, ti pare che Lightning 1 ti guardi, 2... Capisca? Che ne sai È polandese, cazzo te ne frega Polandese Ma anche se fosse italiano, chi cazzo se ne frega Ah, ok Altro Ok, io sono un po' lenta, eh Avvivo Scusate in ritardo, non parlavo di un exp Tolquid Verdandi, nooo, devo farmela a piedi Cioè, prima mi abitui che mi porti ovunque e poi mi fai fare le cose a piedi, non ti senti un po' stronzo? Adesso hai le scroll Ma hai le scarpe col 6% E allora ci arriverò subito Dattemi una mount, no, non si può usare comunque la mount qua Io sento già le 6 Quasi vuole da... le 7, non le 6 Quasi vuole da andare al mech Infatti sentivo un po' di fame, tanta fame Eh, facciamo la quest per le stigma e andiamo al mecham A prender cibo Sì, io clearo sta zona e me ne vado E poi controllo instant gaming Ma comunque, oggi hanno... hanno patchato Diablo per PS4 Hanno aggiunto lo supporto a 4k Ma serio? Sì, te lo giuro, infatti dopo vado a patchare e lo apro Davvero, davvero Oh, guarda, io Diablo lo prenderei anche, soltanto che... Troppo più bello su console, veramente Non è paragonabile al gioco per PC Non c'è, per un euro non c'è Solo il fatto che ti muovi con l'analogico senza fare punte clicca E poi rotoli, perché è bello E non ti fa male la mano perché sei stato a cliccare come un bastardo Molto più comodo Poi vuoi mettere la mica sdraiato E' una merda E' una merda E' una merda Comunque, parlando di cos'è, mezze serie Hai visto che c'era Call of Duty Remastered a 30€ su... Guarda, io ho giocato a Infinite Warfare ed è una porcata come poco No, 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 ma c'era... Il Remastered a 30€ E chi vuoi chiedere? No E' andato sold out in un giorno E qua, chi se ne frega Pensa a te che... E' andato a prenderlo, ma è finito Ma non ci hanno neanche i server dedicati, cioè, chi cazzo se ne è ancora? A nostro 1€ avevano sbattuto la testa e hanno messo tutti i giochi dell'anno scorso a 5€ Dì, a me no Da me no, da me non c'era un gioco In quella cesta e il minimo erano 15€ E poi ho guardato la cosa e ho detto, no grazie Siamo andati il 2 dicembre e c'era in quella cesta lì una coppia di The Witcher A 5€ Wow L'ho preso in mano Sono andato alla cassiera E ho detto, ma questo costo davvero 5€? Ma sì, 4,90€ Dio, davvero Sbottiamo un attimo la casa E abbiamo preso una copia di tutto, 8 giochi, 40€ Vabbè, ok E se è interessato l'hanno rimesso Cosa? Remastered? No, no, non mi prendo un cazzo Ti provo, vai, però Perchè non voglio giocarci da solo No, no, ma io ho giocato a Infinite Warfare e far cagare E il Code 4 non ha server dedicati e non ha futuro, quindi... Non ci spenderò 30€ Non ci spenderò 30€ Però li ha spesi per quella merda di diabo Ma è stupendo da giocare in due sdraiati su Vexile Ora che nella console è fatto molto carino È completamente diverso Ovviamente non è serio come ha fatto Vexile È molto casual ma più divertente e più rilassante Chi ha fatto Vexile è bello ma... Sai, non ti dispermi No, onestamente no No, poi è peggio Perchè solo puoi capire per cosa vuoi Esatto, lì non hai neanche il logro Eh, io vorrei dire semplicemente Che doggi una cosa per essere mangiato da un'altra Vabbè, tralasciando quel video Tu Edo non l'hai visto quel video No, però fossi immaginato No, adesso te lo passo aspetta No vabbè è un po' più carino come... Vederlo è più bellissimo Vederlo è bellissimo Ah, perfetto, training blow te la regalano Non devi neanche scegliere, ti regalan training blow Costa soldi, equipare Venance Guarda, però è... Tutti gli stigma vendor sono diventati stigma researcher E non vende più nessuno le stigma Quindi non so come si comprano, onestamente Vabbè Mh Mi lascia Ma le questioni limitate Verano... Sì, 40 2040 Tori se 40 Doh Guarda un'ottima roba abyss Tipo armor distribute Sì, una monogare va Anastoi Edo guarda Edo guarda Stanno tanto Stanno 20.000 Un pezzo E neanche quelli che fanno set Quelli che fanno set sono Ah, se vuole silver metal, vero Chi cazzo c'era le silver metal? Non noi 35.000 AP l'uno, madonna Non c'ho manco le mana Non c'ho manco le mana se non per socchettarli Non ha senso Cioè capisci Non ti ero accorto che il tizio era sceso dall'altra parte? No no, me ne ero accorto Ah Semplicemente l'ho doggiato Perché è arrivato il tizio con l'ancora a picchiarmi E l'altro mi ha preso, mi ha grabato Perché è giusto, no? Certo Che cazzo Stigma No 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 Io ho un attimo mollato il pad sulle ginocchia e ho detto Ma tutta cosa non è possibile Io mi assegno un attimo i pet tipo l'acqua di rifo E anche quel pezzo E' un pezzo opzionale del DLC Ma è diciamo obbligatorio se vuoi prendere un'arma Che la droppano quei due cose E io il DLC non l'ho fatto Vale, vale Eh ma prima o poi lo farai Certo Prima o poi lo farò, ovvio Non so quando, non so quando avrò tempo di farlo Vorrei Mi dispiace tanto per la tua psiche, Andrew E quelli sono tra i mob, non dico meno brutti eh, ha da vedere Ma io so Perché Sono delle cose con delle testone enorme Sbagliato ho allocato le cose al personaggio di Marzio Devo allocarle a me, non a Marzio A Marzio Vabbè Ah è giusto, sono in Express Ma le Lucky Wings non ce le ho Ma le han tolte scusa Ah no, le Lucky Wings è quelle qua Ok, mi ero preso male, tipo le ali più belle del gioco Eh, erano pure forti Sè, se non hai niente di meglio al 55 era buono Il 55 era molto buono No Il 55 era un sogno Poi passavi a mezz'ora invece con Undir e mettevi quelle di Tiamat No, però non ce le ho quelle di Tiamat No Però non ce le ho quelle di Tiamat Ucra Ucra E la si non lo chiamo Cry E poi al supermercato Io l'avevo chiamato Torwart Tu eri in acquagrifo Lalla era il panda Panda Dei tempi Alex invece era forse lo Shugo Si Da me era uno Shugo Anche da me Basta Nuova vocazione di Alex è fare lo Shugo E poi c'era pro Shugo Madonna Persona fastidiosa Ma questi non devo vedere Questi in realtà potrei Uh, 37 Che lo mi distrai all'arrivo Non eri al 30 che lo fa Aveva anche detto che smetteva eh Eh aveva anche detto che smetteva si Ma anche noi noi dobbiamo andare a mangiare quindi dobbiamo smettere Ah ma io adesso smetto su cazzo C'è ho finito le queste di housing capiscimi Ma io non voglio più giocarci Perchè Così bello Ci mè palla 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 Una palla expare Abbiamo fatto talmente tante volte E' sato Non ce la faccio più Sono sato R'expa anche il mio Non lo so E' pure il mio expa Si si da lavoro Ci mettiamo tutti in follo come botte cxp Ma non c'ho voglia neanche di fare segretà Va 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 Facciamo il break Ok Io mollo Sono vicino a un obelisk No io non apro niente per ora Chiudo tutto Chiudo stream E basta Si deve andare a prendere da mangiare No Purtroppo il mangiare non verrà da noi Quindi Vado a cercare anch'io qualcosa Ma dopo No più tardi Vado a cercare Vado a cercare Vado a cercare Vado a cercare